Sessione plenaria sul turismo in Valle d'Itria, convocata dall'assessore al ramo del comune di Martina Franca Pasquale Lasorsa. È già tempo di trarre le prime conclusioni dei lavori che si sono svolti nei quattro incontri precedenti tra istituzioni, enti locali e operatori della filiera turistica. Dobbiamo rilanciare Martina e il suo territorio, ha detto l'assessore, ed una prima certezza è che parteciperemo alla Borsa del Turismo delle 100 città d'arte d'Italia che si svolgerà a Bologna a fine mese. Intanto già oggi possiamo registrare e mettere nel carniere una discreta crescita di presenze turistiche e di giornalisti specializzati che promuovono la nostra immagine. Dopo la visita di alcuni reporter olandesi riceveremo tra qualche giorno, ha concluso l'assessore, quella di un gruppo di giornalisti australiani. Insomma si fa sistema tra i comuni del territorio, tra singole amministrazioni pubbliche e operatori privati con la supervisione della Regione. Ascoltiamo il sindaco Francesco Ancona. La Regione Puglia, i risultati lo dicono, ha fatto una buona azione per proporre alla Regione Puglia le sue diverse realtà locali al mondo come un luogo di forte attrazione. Non c'è solo Salento, non c'è solo Gargano, c'è anche la Murgia dei Trulli che cerca e rivendica e ha bisogno di uno spazio sempre più grande, anche per dare valore aggiunto alla stessa Puglia.